Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Io sono Flinky108 Oggi siamo qua In un nuovissimo video, siamo qua con Alessandro Andremo ad aprire 20 euro di FIFA Points Avremo qualche pacchetto di questi E poi qualcuno là perché poi Sennò li finisco subito Perché sono i Tots della serie A Andiamo a vedere un po' Andiamo a vedere un po' chi c'è esattamente Abbiamo, oddio mio Io voglio il guaino di Bala Poi vorrei un botto Quasi 3 milioni Oh, se trovo questo qua sboccio Perché mi piace un botto Insigne magari Che dirà Belotti è forte, poi vorrei provare anche Donnarumma Iniziamo con un po' di norma Sì Ho subito a bomba Uno, cioè qualcuno Non tutti questi Non sono solo di questi Preghiamo come va Se ci sta qualcosa di buono, sì No, niente Almeno, IF E' 80 a 3 questo qui Rico Oh, io o li vendo o me li tengo Perché non li scarto Mamma mia i giocatori Questi qua tutti i pali a squad builder Per me serve una barica Quindi 9,6 350 350 Sì, sì No, 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 troppo Troppo Un po' qua Un po' sciogliere Vai Preghiamo gli occhi Queste pomme Ready Aim Fire Hit Ragazzi In forma per noi Iniziamo con Radley Grande Alessandro Grandissimo Hit per noi Troppo bombe Vi siamo Vi c'è una palla enorme Un po' colone Bradley Questo è buono Regà 28 mila Non costa niente Costa 32 Cazzo è proprio buonissimo Regà Oh Io me lo tengo Voi fate voi Io apro un altro di questi Oh Regà Mo' il Toz Eh Vabbè Questa è una cosa schia Grazie No Tutti questi Avremo Quanto è brutto questo Questa è Questa Questa Oddio Che cazzo Non mi sono visto questo Ma regà Guardate Sembo lo spacciatore Che è sotto casa mia Oh Vabbè Dai sopra 7.5 Perché sono Prontano a cagare Quella Vabbè Vabbè Il po' per noi Ragazzi Buon bocca No Ho cantatore Oh Allì Errì Non mi sono visto che era Vabbè No Non mi sono visto che la cagare Questa è inizia Questa è inizia Questa è inizia Questa è iniziare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti